Bene, torniamo in argomento di sci e chimiche, visto che sono il mio pallino personale, nel senso che ti ho confessato quanto mi turba vedere il cielo deturpato da queste sci e chimiche, visto anche che sono una di quelle cose che ho dato per scontata nell'episodio 1 e visto che c'è tantissimo interesse intorno a questo argomento, che forse è anche meno conosciuto di quello che io pensavo, ho deciso di parlarne con una persona che ne sa molto più di me e che fa indagini e divulgazioni su questo argomento da molti anni e quindi oggi parliamo di sci e chimiche con Tom Bosco, che è il direttore responsabile di Nexus New Times, edizione italiana, con cui ho fatto questa breve intervista chiacchierata su Skype che adesso ti andrò a riprodurre. Molto bella questa intervista, mea culpa, mea culpa, mea culpa perché ho detto a Tom Bosco prima di iniziare, o gli ho chiesto prima di cercare di comprimere tutta questa conversazione, o meglio questa intervista, nell'arco di 10-15 minuti, salvo che quando poi Tom ha iniziato a parlare mi sono reso conto della incredibile mole di conoscenza enciclopedica che lui possiede e che fatica ha fatto a cercare di strizzare dentro 10-15 minuti, come io gli avevo detto, perché ha preso molto sul serio la mia richiesta di questo limite temporale, quindi come è stato difficile per lui restringere questo argomento in così poco tempo. Quindi adesso ho imparato una lezione nuova, la prossima volta chiedo il consiglio di una persona come Tom Bosco, magari, ecco, non è una cosa che ci si limita a 10-15 minuti, ma ci si dedica il tempo che serve e lo si approfondisce, sempre che tu, l'ascoltatore di questa trasmissione, siate d'accordo con questo approccio. Ladies and gentlemen, la mia intervista chiacchierata con Tom Bosco. Allora, ciao Tom, grazie da parte mia, grazie a tutti gli ascoltatori, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. Tom, la prima domanda te la faccio subito proprio a bruciapelo, ma veramente, quando parliamo di scie chimiche, dobbiamo ancora dedicare tempo a dimostrare agli altri che non sono normali scie di condensazione, ma c'è una ben chiara differenza tra le scie di condensazione e le scie chimiche? La risposta l'hai già data tu, ormai sono, io mi occupo dell'argomento ormai da lontano, per quel che riguarda l'Italia, tra il 97 e il 98 abbiamo cominciato a pubblicare quello che accadeva negli Stati Uniti, dove il fenomeno si è manifestato a partire dall'inizio del 96, mi riferisco a operazioni in grande stile, non che non ce ne siano state prima, ma operazioni di una certa importanza hanno cominciato a verificarsi nel 96, nel 99 hanno cominciato a manifestarsi anche in Europa e in Italia, sono state raccolte una quantità di osservazioni, di analisi di campioni d'acqua, di precipitazioni di neve, di acqua, insomma la documentazione disponibile per chi vuole farsi un'idea del fenomeno è a dir poco monumentale, il fatto stesso che in Italia tutt'oggi ci siano state, se non ricordo male, non meno di 13 interrogazioni parlamentari a livello nazionale e regionale, indica anche che c'è stata una certa mobilitazione da parte di frange della popolazione e anche una certa sensibilità da parte di alcuni esponenti politici a farsi carico di queste preoccupazioni, quindi a certo punto credo che chi ancora fa fatica ad accettare l'idea che esistano nei nostri sieli dei velivoli non meglio identificati che irrorano delle sostanze per scopi ancora da chiarire al 100%, credo che questo faccia parte di un meccanismo psicologico per cui è molto meno problematico rifiutare l'idea che una cosa così, di questa portata si verifichi veramente, che non far finta che non esista. Certo, crea ansia, crea ansia a dover supporre il problema. No, no, ma è proprio un meccanismo psicologico che è stato studiato da… Un meccanismo di autoprotezione. Sì, sì, è qualcosa del genere, sì. Tom, parliamo di quello che è lo stato dell'arte della ricerca su questo campo, cioè tu che lo segui da tanti anni, questo fenomeno, che idea ti sei fatto o quali sono secondo te le ipotesi più attendibili sul contenuto di queste scie chimiche che tutti quanti vediamo in cielo e sugli scopi per cui vengono spruzzate nei nostri cieli? Beh, più che di ipotesi io vorrei parlare di fatti, perché le ipotesi sono una bella cosa, ma preferisco invece attenermi ai fatti. I fatti sono che queste scie, questo materiale, le sostanze chimiche presenti in queste scie che non sono, come hai giustamente fatto notare tu, non sono assimilabili a normali scie di condensazione che si verificano in determinate condizioni atmosferiche che sono molto più rare di quanto non si pensi, ormai sappiamo quali sono le sostanze che vengono irrorate. Le due sostanze principali, per tacere di tutte le altre, sono i sali di bario e il solfato d'alluminio, oltre a anche delle nanofibre, cioè delle strane fibre che sono state proprio raccolte, analizzate, eccetera, ma comunque concentriamoci un attimino su questi metalli pesanti. Sali di bario e solfato di alluminio. Sì, che sono dei materiali che in primi sanno la capacità di riflettere le radiazioni solari, quindi sono dei materiali riflettenti e se uno si fa una ricerca sullo stato dell'arte, chiamiamola così, della geoingegneria, cioè una nuova branca che viene propagandata come qualcosa che sta nascendo adesso e che troverà applicazione in futuro, in realtà stanno parlando di qualcosa che invece ha già parecchi anni di militanza, chiamiamola così, e quindi loro parlano come se stessero parlando di soluzioni tecnologiche per rallentare il cosiddetto, il mitico riscaldamento globale di cui tanto si parla, ma stanno parlando di qualcosa che di fatto è già in atto da parecchi anni. Quindi tu stai dicendo che il possibile impiego di queste due sostanze che tu hai nominato, la cui principale proprietà sarebbe quella riflettente, lo scopo potrebbe essere quello di riflettere via il calore del sole per impedire l'ulteriore surriscaldamento del pianeta? Questo potrebbe essere uno scopo, almeno questa è la giustificazione che forse stanno cercando, mettendo le mani avanti quando si parla di questa nuova geoingegneria, loro parlano appunto di questi aerosol, i loro raster… Potrebbe essere un'enorme operazione per il bene dell'umanità, diciamo così. Sì, però se fosse così benefica allora perché non parlarne, perché non dire guardate che quello che vedete è vero, ma lo facciamo per questo motivo. Invece si continua a negare pervicacemente che questo fenomeno esista, viene catalogato come una leggenda metropolitana, invece poi vediamo anche servizi nei TG che ci mostrano come invece in Russia le abbiano adoperate, abbiano adoperato questi sistemi per non far piovere in varie occasioni durante manifestazioni sulla Piazza Rossa, eccetera, eccetera. Quindi laddove vogliono far passare l'idea che intanto che questo fenomeno non esiste, ma ammesso che esistesse, è fatto per rallentare, per riflettere le radiazioni solari e quindi rallentare il mitico riscaldamento globale di cui si parla e che questo solo meriterebbe una chiacchierata a parte questa cosa. Esatto, esatto. Diciamo che è tutto da dimostrare, per il momento l'accantoniamo, il mito del riscaldamento globale. Esatto, abbiamo poco tempo quindi concentriamoci sulle scie chimiche o geoingegneria, operazioni di geoingegneria clandestina, questo è il modo migliore in cui riesco a definire il fenomeno attualmente. Quindi lasciamo da parte un attimo le ipotesi, guardiamo i fatti, il fatto numero uno te l'ho appena detto, le sostanze che contenute in queste fantomatiche scie sono metalli pesanti in primis e delle nanofibre di natura altamente tecnologica e di cui si sa ancora abbastanza poco. Ora, sempre per rimanere intorno ai fatti, il bario in particolare ha un'altra caratteristica molto interessante, cioè ha la caratteristica di essere una sostanza igroscopica, cioè assorbe l'umidità. In altre parole, il bario che cosa fa? Quando viene cosparso sopra le nuvole portatrici di pioggia o in concomitanza di fronti freddi in arrivo che porterebbero le piogge, il bario tende ad assorbire questa umidità e a sgonfiare, non so quale altro termine usare per definire quello che è proprio osservabile a chiunque abbia tempo e voglia di mettersi lì a guardare, proprio sgonfiano queste nuvole e quindi quando per esempio viene prevista pioggia, poi questa pioggia di fatto non arriva mai o quando arriva piove per 5-10 minuti o al massimo un'oretta e quello che sto dicendo è confermato dal fatto che proprio quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, sono mesi ormai che giornalmente io soprattutto dalle nostre parti qua nel nord est dove mi trovo io, ma è un fenomeno che più o meno riguarda tutta l'Italia, noi vediamo che, c'è una persona che sta facendo questo lavoro per me, sta conservando tutte le previsioni meteo giorno per giorno per verificare quando loro prevedono pioggia e quando questa pioggia effettivamente si manifesta e qua se la situazione andrà avanti con questa cadenza, se andrà avanti ancora con questo ritmo, io prevedo che quest'estate avremo una siccità che quella del 2003 farà ridere i polli in confronto, spero di essere smentito, ma da quello che vedo, modifiche climatiche potrebbero essere un altro rischio, modifiche climatiche, diciamo che non è una novità che ci sono anche dei documenti dell'Air Force, uno in particolare, possedere il clima entro il 2025, ci sono dei documenti molto chiari in cui si parla di utilizzare il clima come arma e consiglio a tutti la visione di un bellissimo documentario che si intitola Warology, l'altra guerra, fatto da Morgan Menegazzo, dove vengono intervistati i personaggi, parlo di alti ufficiali dell'esercito e di altre armi e altri testimoni eccellenti che raccontano proprio questo, parlano del fatto che ormai il clima viene modificato per essere usato come arma, è chiaro che se tu vuoi colpire o minacciare un paese e riesci a provocare alluvioni devastanti, ossicità altrettanto devastanti, puoi in qualche modo esercitare… E le scie chimiche potrebbero essere parte di questo disegno? Io sono convinto di sì. Torniamo al discorso degli ufficiali che mi stavi dicendo, perché questa è proprio l'altra domanda, probabilmente anche l'ultima domanda che volevo farti, quindi tu dici 13 anni di scie chimiche in Italia e molte di più in America se è per questo, com'è che non è ancora saltato fuori qualche gola profonda, qualche talpa, qualche informatore che rivela il retroscena di quest'operazione? Diciamo che qualche gola profonda è venuta anche fuori, ma naturalmente essendo una gola profonda che non può presentarsi con nome come ome qualifica, viene naturalmente etichettata come bufala, come mitomane o cose del genere, ma sono saltate fuori delle testimonianze abbastanza interessanti, ma ancora diversi anni fa, ricordo quella per esempio di un meccanico che lavorava presso certe linee aeree negli Stati Uniti che aveva denunciato il fatto di aver visto proprio installare in alcuni velivoli degli apparati atti proprio allo scopo di irrorare delle sostanze chimiche e ricordo un'altra testimonianza di un funzionario di un'altra linea aerea che ha ricevuto la visita di alcuni non meglio identificati funzionari che l'hanno, insomma, usando il bastone e la carota praticamente l'hanno detto bene o collaborate con noi in questo genere di operazioni oppure voi avrete dei grossi guai e non potrete continuare ad operare come linea aerea o cose del genere, insomma sono saltate fuori delle testimonianze che naturalmente rimangono quello che sono, perché non sono verificabili, ma se a questo associamo il fatto che, non so, l'anno scorso per esempio, proprio pochi mesi prima che lasciasse questo mondo, Ted Ganderson, un funzionario di alto livello dell'FBI ha denunciato pubblicamente in un video non solo l'esistenza delle scie chimiche ma anche gli effetti deleteri che queste operazioni stavano avendo, insomma quando personaggi di questo calibro si espongono con faccia, con nome e cognome per denunciare queste operazioni io le prenderei seriamente e poi per finire il discorso un'altra delle critiche che vengono mosse alla veridicità del fenomeno è, ah ma se fosse così com'è che le persone, gli specialisti, cioè persone veramente ferrate nel campo dell'aeronautico e della meteorologia negano tutte l'esistenza di questo fenomeno, questo non è vero perché io sono personalmente in contatto per esempio con un pilota, con un ex pilota militare dell'aeronautica italiana che è uno dei, lui non se la sente di esporsi in prima persona ma è uno dei, ho un carteggio piuttosto eloquente sul fatto che lui è estremamente preoccupato quanto lo sono io del fenomeno, un pilota di elicottero attualmente in attività che è un mio carissimo amico ed è un altro che è veramente arrabbiatissimo per questo genere di operazioni e poi pubblicherò comunque sulla rivista fra poco una bella relazione messa in piedi da un'altra persona particolarmente esperta, stiamo parlando di un meteorologo dell'aeronautica militare che è andato in pensione da poco, anche lui non solo pensa che, non pensa affatto che siano una bufala ma spiega tecnicamente, dà proprio i dettagli tecnici per spiegare perché le scie che vediamo nel cielo, quelle anomale come le chiama lui non possono essere scie di condensazione, quindi non manca il materiale su cui ragionare e poi ci vuole la volontà di farlo, di accettare la possibilità che ci siano delle operazioni che sono impensabili in un regime democratico, dove tutto è trasparente e a disposizione dell'opinione pubblica e quindi mi rendo conto che è un argomento molto scottante, soprattutto perché si fa fatica, ripeto, psicologicamente in primis, ad accettare che una cosa del genere possa essere vera, però di fatto... Così grande è così sotto il naso di tutti Esatto, esatto Tu hai informazioni su persone che hanno cercato di fare indagini, interrogazioni, mi sembra che lo accennavi prima, sono state messe in condizioni di desistere dalle loro ricerche? Desistere no, consigliate però, voglio dire, ho delle testimonianze di prima mano di, diciamo così, di persone che grazie a conoscenze nell'ambito delle forze armate o comunque di ambienti che in qualche modo dovrebbero sapere, sono state consigliate di non occuparsi dell'argomento perché era una cosa di cui era meglio non occuparsi, sono state consigliate in maniera, tra virgolette, gentile, ma in ogni caso gli è stato suggerito caldamente e senti, se vuoi vivere tranquillo lascia perdere, non è proprio il caso Tom, grazie da parte mia, da parte di tutti gli ascoltatori e anche da parte del non ascoltatore per prenderti a cuore e seguire l'indagine di questa questione che sta così a cuore a tante persone, ripeto, i cieli e anche quello che ci cade in testa dai cieli è una cosa che sta a cuore a tutti noi, quindi grazie per questo tuo interesse, per averlo coltivato con tanta serietà e professionalità nel corso di tanti anni, come si può rimanere in contatto con te, con il tuo lavoro e con la rivista e la tua edizione italiana di Nexus New Time? Prima di rispondere a questa domanda vorrei comunque chiarire che purtroppo nei pochi minuti a disposizione è difficile documentare in maniera esaustiva questo argomento che richiederebbe molto più tempo come puoi immaginare. Comunque detto questo, beh la rivista è Nexus New Times a cui adesso si è affiancata un supplemento, una rivista parallela che si chiama Punto Zero e per informarsi o per rimanere in contatto con me vi consiglio di andare sul nostro sito che è www.nexusedizioni.it, lì ci sono tutti i dettagli per avere più informazioni sulla rivista e su chi la produce, cioè su chi se ne occupa, tra cui me stesso. Ottimo, grazie Tom, nexusitalia.it, nexusedizioni.it, Tom come giustamente dici l'argomento è grande, è vasto e ci sarebbe ancora da dedicarci e da dedicarci sì a lungo e non ho motivo di dubitare che il tuo interesse sarà, il tuo intervento piacerà molto ai nostri ascoltatori e lo giudicheranno molto interessante, quindi chissà che non ci si rincontri una seconda volta e non si continui ad approfondire questa problematica. Quando volete sapete dove trovarmi. Grazie Tom, grazie ancora, grazie e buon proseguimento di tutte le tue attività. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie.